E vediamo che stia registrando Prima sto registrando Allora com'è il controllo Così Vabbò ma te non devo guardare Metti il bocca a tosti Ci ho fatto Appiccicale dritto Qua Più qua, dai due bulloni Dritto Tieni, tieni tutte e due Pagini solo con questa cosetta di scotch No, no, pazzi Ma qua finisce lo scotch Reggi l'aeri Non lo so, è messo in sicurezza Beh, oddio, ma orsi non si muove tanto Però sai che? Mettere due pezzettini qua per bloccarlo Eh ma là non regge molto Qua Qua E due pezzettini qua per evitare che si allargano Capite? Mh Tiene stretto Tanto di cosa sta appiccicando? A meno che non rifai il flusso quello strano Che se lo tira Sai che cacchi succede nel profilo all'aria Non si capisce niente Succedono le cose più strane Peggi di mister Tipo? Capace che l'aria li gira attorno Li fa tipo il cucchiaio sul lattino E' strano Perché questo è forma di cucchiaio È forma di aula Ah, guarda, solo tu Ho combinato con te lo giro Dio, ma dove sei il dialetto? Mi mandi una nocciolina? No, non c'è Vado fammi rimpostare come su un'aria Ah buona Hai piene di cose e tutto quanto Anche lui qua Se ne atticchia la batteria Fa bruttissimo Lui qua sentirà il microfono tutto Destra Destra Motore Ok quando accendo? Aspetta Sono pronto Vai Ora Se ne atticchia la batteria della batteria comunque Con ersi Grazie a tutti. 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 Oh, guardate che cacchio di crepa. Madonna. No, no, sempre. Nocciolina di tutti. Allora, veloce. Sono messo e spendo. Speriamo che la salvata. Ma questo fa i montaggi belli con Oral. Non posso evitare la salvata. Non posso evitare la salvata. Non lo so che si fredda la qualità. Prendilo, prendilo. Buon. No, no, stai ancora. Spera, spera.